Il Domino Tour sbarca a Firenze. Malika Iane sceglie di cantare nel capoluogo toscano in due posti, due location totalmente diverse. La discoteca fiorentina Tenax e il Teatro Verdi in centro. L'artista si esibisce in due spettacoli completamente differenti per stile, sonorità e pubblico. I concerti nei teatri sono caratterizzati da suoni morbidi, cercando di avvicinare brane di repertorio a quelli inediti. Nei club, come il Tenax, invece le canzoni sono riportate alla loro natura più cruda, una concezione più ruvida ed essenziale. Al Tenax la cantautrice ha portato le dieci canzoni scritte nel suo nuovo album Domino, più altri suoi successi. Con questo ultimo lavoro, Malika Iane ha festeggiato i dieci anni di carriera e rappresenta una delle produzioni più mature della cantautrice milanese con origini nordafricane. Il Teatro Verdi in centro.